Trialometani nell'acqua scatta l'ordinanza di divieto di consumo umano a San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano di Fano. Caro prezzi e siccità, gli agricoltori preoccupati anche per la trebbiatura del grano. Speriamo che il prodotto finale almeno sia verretreguito. Una maxi torre con sei antenne per la telefonia mobile nel quartiere di Soria monta la protesta a Pesaro per l'impianto di 30 metri che verrà installato vicino alle case. A Dancona la Capitaneria di Porto sequestra la banchina monumentale della mole vanvitelliana, le barche presenti e le opere abusive. A breve un'ordinanza per la disciplina dell'ormeggio dei pescherecci. Cicloturisti da tutta Italia ed eventi collaterali è tutto pronto per la prima edizione dell'Adriatic Green Trail, un viaggio in bicicletta di tre giorni alla scoperta del territorio tra mare e colline. Fano, capitale della corsa campestre, attesi più di 1200 atleti nel fine settimana per il ventitresimo campionato nazionale del CSI. Buonasera e benvenuti sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito nel nostro sommario, nel tardo pomeriggio di oggi il Comune di Fano ha emesso un'ordinanza con la quale si vieta il consumo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale, e quindi distribuita dal pubblico acquedotto, nelle zone di San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano. Il provvedimento è stato adottato con urgenza dopo la comunicazione da parte di Asur, che ha rilevato dei trialometani, cioè dei prodotti degenerativi del cloro nell'acqua, superiori al limite previsto dalla legge. Il limite stabilito è infatti di 30 microgrammi al litro, mentre quello rilevato è di 39. e concentrazioni di trialometani al di sopra del valore di soglia possono rappresentare un rischio per la salute. Per gli abitanti di queste quattro zone, che ripetiamo sono San Cesario, Sant'Elia, Ferretto e Magliano, Aset predisporrà un autobotte davanti al cimitero di San Cesario. Per rafforzare la comunicazione, in queste ore i vigili urbani avviseranno le località interessate mediante l'altoparlante. L'ordinanza rimarrà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca. L'aumento dei costi sta mettendo a rischio le aziende che operano nell'agricoltura. I costi del carburante e dei mangimi sono raddoppiati, come anche i fertilizzanti e l'energia. Intanto gli agricoltori guardano con preoccupazione la prossima stagione della trebbiatura del grano, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci. Prima il Covid, poi la siccità e ora l'aumento vertiginoso dei prezzi. Sono in difficoltà le tante aziende agricole del nostro territorio, dopo la notizia sul rincaro di carburante, energia, fertilizzanti e mangimi per animali. La situazione è al momento, dopo un anno che c'è stato praticamente problema siccità, soprattutto sulle semine primarili, un grosso calo delle produzioni. Però nonostante questo siamo stati sollevati dal fatto che con delle spese, diciamo costi di gestione dell'anno scorso abbastanza modesti, abbiamo avuto un prezzo del grano molto alto e questo è riuscito a tamponare le perdite di produzione. Tutto sommato non è stata una stagione negativa, ma ci siamo salvati, diciamo, i corner. I zonelli insieme allo zio portano avanti l'azienda e gestiscono ben dieci mezzi più le attrezzature. Un grande costo se sommiamo poi la manutenzione e il pieno di carburante per ogni trattore. È molto relativo, diciamo, passi dai consumi più estivi che sono molto alti, 300-400-500 litri al giorno, magari in inverno i consumi sono molto inferiori, perché i macchinari sono molto più leggeri e quindi i consumi sono minori. Però in estate il costo del gasolio è più o meno, partiamo su un consumo sui 20.000 litri all'anno e quindi quest'anno inciderà tantissimo, abbiamo visto che il costo del gasolio è raddoppiato, se i prezzi saranno questi, quest'estate sarà un problema perché parliamo di decine di migliaia di mila euro, di costi di gasolio. Una situazione drammatica se non si troverà una soluzione in poco tempo, ha aggiunto poi Tonelli, infatti sono tanti gli agricoltori che guardano con fare preoccupato anche alla prossima stagione della trebbiatura. Preoccupati soprattutto se le produzioni saranno scarse, visto questo aumento del gasolio di tutti i costi di produzione, se le trebbiature saranno scarse, con un basso raccolto può essere un grosso problema, se i prezzi bene o male rimangono questi, c'è una buona produzione, tutto sommato può essere anche una situazione normale. Un grido d'allarme arriva anche dagli allevatori, in seria difficoltà per i costi quasi raddoppiati dei mangimi per il bestiame. I nostri colleghi, soprattutto gli allevatori, sono preoccupati perché visto chi ha già dei contratti in essere con già un prezzo stabilito del prodotto, vive in una condizione che gli aumenti dei costi di produzione sono altissimi e praticamente vende il prodotto poco più dell'anno scorso, quindi si trova in grossa difficoltà. Stessa cosa vale per noi se ci troviamo in questa situazione e speriamo che il prodotto finale almeno sia ben retribuito. Ma c'è anche da dire che questo momento ha messo gli agricoltori della nostra provincia nella situazione di risparmiare in alcuni lavori abituali per cercare di contenere i costi, come la riduzione della concimazione nei campi, risparmiando sia il concime che il gasolio, utile per altre lavorazioni. Le istituzioni in questo momento, che non mettano in difficoltà magari con opere sanzionatorie o magari voglio dire di avere un occhio di riguardo a questa situazione, visto che c'è questa grande certezza di avere tutti un po' più di parsimonia. Ci spostiamo a Pesaro nel quartiere Soria, dove i residenti hanno protestato contro una maxitorre per la telefonia mobile. Intanto il centrodestra ha presentato un'interrogazione urgente e ha commentato l'ennesimo schiaffo ai cittadini tenuti all'oscuro di tutto. Tenuto conto che Ricci su Facebook parlava anche di il patrimonio culturale che dobbiamo rilanciare nella provincia di Pesaro Urbino o poi deturpare così una zona mare non mi sembra una cosa molto intelligente. Decine di persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Europa Pesaro davanti alla sede del quartiere Soria per protestare contro l'installazione di una stazione radio costituita da una torre di 30 metri su cui verranno installate sei antenne, tre parabole, sette RFM che consistono in un monitoraggio delle frequenze radio con una comunicazione wireless e nell'area recintata due apparati per la raccolta e la propagazione dei dati. A rendere nota la collocazione di questo impianto per la telefonia mobile sono state quattro associazioni ambientaliste che in una nota hanno indicato anche la determina del 22 marzo pubblicata nell'albo pretorio con la quale si autorizza la società Iliad ad installare la maxitorre. L'area prescelta è quella tra via Nobiliore e lungo Foglia Caboto dove c'è un piccolo parco pubblico e un parcheggio circondato da case in cui la densità abitativa è elevata. Il tutto, avevano spiegato, verrà realizzato concedendo l'uso di un terreno di proprietà comunale in cambio di un affitto che in genere è piuttosto cospicuo si potrebbe arrivare fino a 50.000 euro all'anno. È incredibile, avevano commentato, aggiungendo che la comunità scientifica è concorde sui possibili effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici come deficit dell'apprendimento e della memoria e disturbi neurologici per non parlare dell'impatto paesaggistico in rivolta all'intero quartiere. Non ci siamo solo noi di via Lungofoglia Caboto, ci sono anche le palazzine limitrofe che comunque hanno gli stessi danni ambientali e di salute e via dicendo. Ricordiamoci sempre che le radiazioni possono dare emicrania, insonnia, nervosismo sono impatti anche dal punto di vista di salute e non da poco. Io credo che i terreni comunali siano tanti, presenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino e vedo difficile pensare che non ci sia un altro posto dove collocare un'antenna cioè non proprio sul lungomare. È un fulmine accesserino, siamo contrari, soprattutto la gente è contrari. Ora bisognerebbe andare nei dettagli, cioè cercare di capire meglio quanto questi possono senza delle autorizzazioni precise. Sta di fatto che loro dispongono di tutti i requisiti previsti dalla legge quindi i controlli dell'ARPAM, non so quali altri enti e per cui al momento stiamo verificando sono, dico la verità, anche in imbarazzo perché io sono nel Consiglio di quartiere soprattutto per rappresentare la gente diciamo che sono l'anello di congiunzione tra la gente e il comune il comune dice di non avere responsabilità di non essere in grado di contrastare le scelte di Ilia la gente dice che quello non è il posto giusto per mettere un'antenna e su questo io sono d'accordo con la gente non è il posto giusto per mettere un'antenna ora vedrò assieme all'amministrazione se è possibile fare proposte alternative e cosa si può fare eventualmente per impedire che venga messa proprio in quella posizione perché è tra le case, non vicino alle case, tra le case la cosa più grave in assoluto è che ancora una volta l'amministrazione ha scelto di calpessare i propri cittadini evitando qualunque tipo di condivisione il centrodestra di Pesaro commenta così la notizia dell'installazione della maxiantenna nel quartiere Soria Lega, Prima Cepesaro, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno deciso di presentare un'interrogazione urgente chiedendo spiegazioni ed eventualmente valutando anche di sospendere la delibera in attesa di maggiori informazioni abbiamo voluto raccogliere, hanno spiegato i consiglieri le preoccupazioni dei tanti residenti che si interrogano sulla possibilità in base alla concessione accordata che in futuro sulla stessa struttura possano essere installati ulteriori antenne, parabole e sistemi RFM inoltre si vuole far luce sui criteri in base ai quali è stato individuato il canone di concessione e se sia stata effettuata un'analisi costi-benefici Il tema è quello che come al solito l'amministrazione impone e non dialoga con i propri cittadini anche in questo caso è stata un'imposizione completa il quartiere non è stato avvisato in nessun modo neanche informato, non solo coinvolto a questo punto l'interrogazione ha il valore di far sapere alle persone quali scelte ha preso l'amministrazione come mai proprio in quella zona e soprattutto quali sono state le azioni che l'amministrazione ha eventualmente messo in atto per cambiare zona quella è una zona particolarmente spiacevole per installare un'antenna quali sono le iniziative che ha portato avanti l'amministrazione e quali sono anche gli studi che sono stati eventualmente messi in atto per tutto quello che è il tema della salute e della sicurezza e dei cambiamenti che porterà a quest'opera la capitaneria di Porto di Ancona su delega della Procura della Repubblica ha posto sotto sequestro la banchina monumentale della mole vanvitelliana tutte le barche ormeggiate e altre infrastrutture abusive presenti nella zona il sequestro è la conclusione di un'articolata attività di polizia giudiziaria che l'autorità marittima porta avanti dallo scorso dicembre ha lo scopo di individuare i responsabili delle situazioni illegittime infatti sono già state elevate diverse sanzioni amministrative l'intento dell'autorità è quello di realizzare una bonifica dell'aria spostando le unità ormeggiate senza titolo rimuovendo le opere abusive e il materiale depositato sulla banchina monumentale in modo da restituire alla cittadinanza lo storico accesso dal mare al lazzaretto verrà emanata anche un'ordinanza che riformerà la disciplina dell'ormigio dei pescherecci non si comprende la reazione scomposta e aggressiva del sindaco di Pesaro in merito alla questione della ferrovia adriatica così l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che ha replicato alle accuse mosse ieri da Matteo Ricci la regione ha avviato un confronto con tutti i sindaci interessati i quali hanno partecipato alla riunione del 30 marzo al contrario il sindaco di Pesaro ha preferito non partecipare ha detto non delegare nemmeno un assessore ma inviare un suo collaboratore fuggendo così dal confronto con i colleghi e con la regione per poi preferire monologhi in conferenza stampa in quell'occasione era stata manifestata profonda preoccupazione ha spiegato Baldelli perché l'aumento del traffico merci sulla dorsale adriatica è destinato a penalizzare il traffico passeggeri a livello locale inoltre ogni intervento di arretramento comporterebbe lo smantellamento della linea attuale con danni irrimediabili al trasporto pubblico locale e alle buone pratiche di quei cittadini che oggi preferiscono il treno all'auto come evidenziato dalle previsioni del ministero transiteranno fino a 176 treni merci al giorno una cifra insostenibile che è incompatibile anche con la presenza di numerose strutture dedicate al turismo invitiamo il sindaco di Pesaro concluso Baldelli a partecipare alle prossime riunioni dall'educazione sessuale alla parità di genere al paricentro di Fano verrà attivato un nuovo sportello d'ascolto dedicato ai giovani parliamo sempre di giovani ma spesso non si creano spazi necessari alla socialità di cui hanno bisogno il sindaco di Fano Massimo Seri insieme all'amministrazione comunale vuole consolidare i rapporti umani per vincere la sfida dell'inclusività l'ultimo esempio è il nuovo sportello d'ascolto denominato il posto per parlarne che verrà inaugurato al paricentro sabato 9 aprile sarà l'inizio di una serie di giornate ogni 15 giorni quindi due volte al mese in cui ci sarà la possibilità di venire qui al paricentro a parlare a parlare e incontrarsi diciamo che lo spazio è pensato soprattutto per i giovani e diciamo parte come idea dallo speaker's corner di Hyde Park quindi che qualcuno possa venire, dire delle cose, proporre un argomento e poi si discute insieme ci si potrà confrontare su tematiche anche poco discusse negli spazi istituzionali e scolastici come l'educazione sessuale e affettiva, la ricerca della propria identità e l'educazione alla parità di genere a raccogliere la proposta della dottoressa Santini psicoterapeuta e coordinatrice del consultorio diocesano sono stati gli assessori Sara Cuccherini e Barbara Brunori diciamo siamo in un momento storico in cui le parole ormai sono quelle solo dei social dove non ci si incontra più con i corpi, non ci si vede i ragazzi non conoscono, non hanno memoria di questa possibilità di incontrarsi, parlare, discutere, portare le proprie idee conoscono le conferenze, conoscono la scuola dove loro ascoltano invece questo è uno spazio dove possono sentirsi, ascoltarsi e dire dire la loro, poter portare i loro contenuti naturalmente è una cosa nuova, è una sfida è qualcosa che si vuole dare l'opportunità di fare esperienza un'esperienza che ognuno vivrà come vuole perché nello spazio si può venire, andare, non ci sono prenotazioni non c'è impegno alcuno, è un'opportunità, è una possibilità libera di ritornare a incontrarsi e parlare insieme E' tutto pronto per la prima edizione dell'Adriatic Green Trail un viaggio in sella alla bicicletta che da domani a domenica porterà a scoprire il mare e le colline attraversando più di 30 borghi della provincia di Pesero Urbino Si apre un mese di grande collaborazione tra sport e turismo con tante associazioni sportive della nostra città una serie di eventi e di attività che stanno veramente portando prenotazioni nella nostra città e riempendo tutti i nostri hotel con una collaborazione, con un protocollo sottoscritto proprio con queste società per realizzare dei pacchetti turistici per ospitare le persone in arrivo da tutta Italia proprio nella nostra città Si parte da Adriatic Green Trail che è un'avventura che si può realizzare in bici ci sono degli itinerari realizzati dai ragazzi di Fanocorse degli itinerari che toccano le piste asfaltate ma che vanno anche sullo sterrato e che fanno vivere tutto il nostro territorio tra mare e dentro terra arrivando fino alle zone dell'Urbinate, del Monte Feltro quindi che fanno veramente toccare con mano tutti i nostri fantastici paesaggi percorsi che oggi veramente attirano persone da tutta Italia che vogliono vivere in relax il nostro territorio quindi l'8, il 9 e il 10 di aprile si terrà questo magnifico evento con una serie di itinerari già tracciati dall'organizzazione da Fanno Corre che appunto ci aiuterà a portare qui a Fanno veramente tante persone ma non sarà soltanto un evento perché in realtà con queste associazioni quindi con Fanno Corre insieme agli organizzatori di Fanno di Adriatic Green Trail insieme all'organizzazione di Forbici stiamo realizzando una serie di itinerari ciclabili che vogliamo proprio in qualche modo vendere nel panorama internazionale quindi dire Fanno è pronta ad accogliervi con le vostre bici per vivere a pieno il nostro territorio L'Avis Fanno invece ha lanciato la donazione in blu che prevede una visita urologica gratuita per gli uomini che donano sangue o plasma nel mese di aprile 4.200 sacche raccolte solo lo scorso anno 2.500 donatori e fino a 15 persone al giorno che si presentano al centro trasfusionale di Fanno numeri importanti garantiti pure in tempi di pandemia e ottenuti anche grazie alle campagne di promozione e di sensibilizzazione portate avanti da Avis Fanno dopo il Donor Day dedicato alle forze dell'ordine per questo mese l'associazione di volontariato ha lanciato la donazione in blu tutti i donatori di sesso maschile che doneranno nel mese di aprile potranno usufruire di una visita gratuita urologica e quindi sostanzialmente una maggiore attenzione una sempre più attenzione al donatore e al suo stato di salute La donazione e prevenzione ha poi precisato il dottor Carlo Pazzaglia direttore di medicina trasfusionale di Marche Nord infatti ha spiegato si rispetta sia la salute del ricevente sia quella del donatore che viene sottoposto a diversi esami il medico ha anche ricordato i requisiti richiesti Il donatore deve avere un'età compresa fra 18 e 65 anni però la prima donazione è meglio farla meglio farla prima dei 60 anni sia accettate anche dai 60 ai 65 ma ci deve essere poi un controllo medico più accurato Il peso assolutamente decisivo deve essere almeno sopra i 50 kg 50 kg è il limite e ovviamente deve essere in buona salute e faremo gli accertamenti anche per durante prima della prima donazione cioè avremo un momento di colloquio e di esami di laboratorio per verificare lo stato di salute del donatore E adesso lo sport in questo fine settimana arriveranno a Fano più di 1200 atleti che si contenderanno i titoli nazionali CSI di Corsa Campestre Conto alla rovescia per la ventitresima edizione del campionato nazionale di Corsa Campestre del Centro Sportivo Italiano classica manifestazione primaverile di atletica leggera che gode del patrocinio della regione e del comune di Fano in collaborazione con la Proloco Cittadina il CSI dunque torna nelle Marche per una finale di cross dopo l'edizione bagnata del 2005 nella piana di Montorso a Loreto Come comitato regionale delle Marche siamo davvero contenti e soddisfatti di aver potuto organizzare questo evento nella nostra regione e soprattutto nella città di Fano che poi è la mia città quindi questo mi inorgoglisce due volte anche per un sano campanilismo e ricordo con piacere che da piccolino ci portavano a fare i giochi della gioventù proprio in quella zona quindi quando abbiamo avuto la proposta dalla presidenza nazionale ho subito pensato a quel luogo e sono contento che sia stato approvato e che possa essere messa in piedi questa collaborazione rinnovata con l'amministrazione comunale di Fano e anche gli albergatori penso e spero che sarà proprio un weekend di soddisfazione dal punto di vista sportivo e non solo Sabato è in programma la gara individuale nell'area verde del Parco Urbano Polverari al via 692 finalisti e 563 finaliste di 104 società sportive rappresentanza di 26 comitati portacolori di 9 regioni molti i campioni regionali che si sono laureati quest'anno nelle prove territoriali di qualificazione e che proveranno a conquistare anche l'ambita maglia scudettata e il titolo nazionale di specialità rilevante la straordinaria partecipazione giovanile il 60% dei pettorali sarà assegnato agli oltre 700 atleti under 14 ben 203 agli esordienti di 10 e 11 anni e 230 ai cadetti cioè i nati nel 2007 e 2008 dopo aver assegnato le medaglie ai campioni arancio blu alle ore 18 nella parrocchia San Paolo Apostolo è prevista la Santa Messa delle Palme concelebrata dall'assistente nazionale del CSI Don Alessio Albertini è animata dai ragazzi dell'oratorio e del centro sportivo italiano una gara individuale per 1255 persone da 10 a 79 anni e con un'inclusione sicuramente anche sociale della disabilità questo è un fortissimo messaggio che si dà alla città che lo sport vuole comunque continuare a garantire grazie alla società CSI che in questo caso è virtuosa ha deciso di organizzare un evento di un fortissimo richiamo e anche adesione perché sarà tanta la partecipazione oltre questa giornata si aggiungerà anche la domenica invece un momento di staffetta regionale che si svolgerà sul lungomare quindi lasciatemi dire che la città sarà pervasa da tutto quello che è il motore dello sport e quello tra turismo e sport ha poi aggiunto l'assessore Lucarelli è un binomio vincente infatti insieme a tante associazioni del territorio abbiamo attivato una serie di progetti e questo mese sarà ricco di iniziative una gara nazionale che ci aiuta anche a destagionalizzare aiuta a città a ripartire aiuta i nostri operatori economici a ripartire perché avremo a Fano circa 900 presenze insomma 1200 atleti che hanno prenotato e che arrivano da tutta Italia anche se soprattutto dal nord quindi un progetto che funziona e che alimenteremo sempre di più perché sappiamo che la nostra città ha bisogno di lavorare tutto l'anno e non soltanto nei mesi estivi e questa sera apriamo l'album di Fano TV perché dobbiamo fare gli auguri a Marisa e Marziano Pierpaoli residenti a Lucrezia di Cartoceto che oggi festeggiano 53 anni di matrimonio auguri da tutti i familiari e ovviamente dallo staff di Fano TV Fano TV è sostenuta da Giuseppe Pagnoni e Graziella Baldelli grazie di cuore ai nostri telespettatori tra poco invece trasmetteremo un approfondimento dedicato al Museo Civico di Mondolfo e alle sue curiosità allora buona serata su Fano TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti